Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle romantic scams, le truffe romantiche, come difendersi. Prima di passare al tema però iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto i link in descrizione. Allora, cosa sono queste truffe romantiche? Allora, ve ne sono fondamentalmente di due tipi, però l'approccio è poi lo stesso inizialmente, diciamo così. Un profilo, ovviamente fake, o Facebook, o qualche altro social, ti contatta e inizia un corteggiamento nei tuoi confronti. Sono molto abili perché i corteggiamenti poi sono standard, cercano di capire quali sono i tuoi interessi, quali non sono i tuoi interessi, cioè si vedono prima il tuo profilo per dire se tu ami i gatti, iniziano a parlare dei gatti, un gattino, insomma vanno avanti così. E sono abili perché fanno questo di mestiere praticamente, per cui iniziano questo corteggiamento. Ora, tieni presente questo. Le, come dire, gli approcci via internet, via social, o sono fatti, o li fanno dei profili che sicuramente sai che sono reali. Sei certo, al 100% che si tratti di profili reali. Ma anche in questo caso poi devi scendere sul profile reale, ma se la relazione è solo virtuale, magari non è un romantic scam, ma è comunque un, non è una truffa, ma è comunque una perda di tempo, no? Perché ci sono anche gli allumeuse, gli allumeur, che mantengono le relazioni virtuali senza mai farle diventare reali. Però, vabbè, non sono truffe, quindi, però, è comunque perdi tempo. Quindi, se questo contatto non scende mai su un piano reale e non ti propone un incontro, e dici, ma abita dall'altra parte del mondo. E se abita dall'altra parte del mondo, amen, chiudi, non stare a perdere tempo. Trovatene uno che sia, che si possa vedere di persona, insomma, che tu possa frequentare di persona. Perché poi cosa fanno questi? Diciamo, dal contatto poi passano al corteggiamento, chiedono ovviamente un contatto telefonico, un contatto Skype, entrano in, entrano in, in confidenza, insomma, si presentano come se fossero, insomma, fidanzati, innamorate, fidanzate, innamorate. E allora, poi qui si dirama la truffa, diciamo così. E ve ne sono di due tipologie. Una è che iniziano a manifestare delle esigenze, iniziano a inventarsi che gli è capitata qualche disgrazia, qualcosa, parenti morti, soldi persi, come dire, per farsi aiutare economicamente, fondamentalmente. Quindi si fanno mandare anche i soldi. Ci sono persone che hanno aiutato economicamente anche per periodi lunghi, prima di rendersi conto che in realtà si trattava di tutta una messa in scena, tutta una truffa. E questa è la prima tipologia. Quindi, anche in questo caso, la cosa è semplice, non farti abbindolare dall'inizio e non dare soldi a persone che non conosci neanche fisicamente, che non sai chi siano, poi di fatto. La seconda tipologia di truffa è più manipolativa, nel senso che propongono appunto degli incontri di carattere erotico via Skype, ad esempio, lo registrano e poi ti ricattano, nel senso di diffondere le tue immagini, insomma, e quindi la cosa è ricattatoria. Insomma, anche qua bisogna rivolgersi all'autorità, in questi casi, senza pagare, perché se paghi poi... Però è molto meglio prevenire che curare, diciamo così. Quindi mai fare delle cose con sconosciuti via webcam, perché tutto può essere registrato, diciamo così, no? E questo è importante. Quindi tenete presente questo, i contatti virtuali sono... può esserci di tutto dietro un contatto virtuale. Quindi, se non c'è una conoscenza reale, una conoscenza pratica, non bisogna mai proiettare. Il contatto virtuale è virtuale, può essere un'amicizia, una conoscenza, un cuore, ma non bisogna mai andare oltre, confidarsi, dire cose personali. Se non sai che esiste veramente questa persona, cioè se non ti hanno detto che sì, è un mio amico, quello che abita, che ne so, in Francia, per dire sai che è un contatto certo, allora è un altro discorso. Ma se ti contattano così, c'è sempre il grosso rischio, appunto, che si tratti di una truffa, insomma. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale. E iscriviti anche al mio nuovo canale, Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!